E restiamo in tema perché ieri c'è stata una protesta in piazzale Cristoforo Colombo ad Ostia dove alcuni rappresentanti del coordinamento strade sicure del decimo municipio hanno esposto uno striscione con la scritta La Maratona delle Bucche per esprimere il proprio dissenso contro le pessime condizioni dell'asfalto e per sabato 17 marzo alle 16.30 in piazza dei Ravennati lo stesso coordinamento ha indetto una manifestazione per chiedere al Campidoglio lavori urgenti